È l'ugandese Osea Kiblanga a conquistare la cinquantesima edizione della Scalata al Castello, classica di podismo ben organizzata dall'Uppi Policiano, capitanato da Fabio Sinatti e la sua famiglia e con validi collaboratori. Una cavalcata solitaria spettacolare la sua, cominciata verso metà corsa e che si è conclusa vittoriosamente sul traguardo di Via Roma, nel cuore di Arezzo. In campo femminile la keniana Lucy Muli, 25enne atleta africana, ha realizzato un tris peraltro consecutivo, mai riuscito a nessuna. L'edizione delle nozze d'oro della Scalata al Castello è iniziata in mattinata col successo tra gli amatori di Girma Castelli, dell'orocchiella garfagnana che ha preceduto Eugenie Christoshen, Policiano, atleta di origini russe e con un bel passato da ciclista. Tra le donne successo di Valentina Mattesini, sempre dell'Uppi Policiano. Poi il pomeriggio intenso in una calda giornata davanti a un buon pubblico con le gare del settore giovanile, spettacoli vari. Poi il clou con il circuito cittadino arrivo in Via Roma, che le donne hanno ripetuto sei volte per cinque chilometri, gli uomini dodici per un totale di dieci chilometri. In gara anche l'ex campione europeo di maratona Daniele Meucci, che nel 2008 fu l'ultimo italiano a vincere la Scalata al Castello.